Benvenuti in derso dell'angolo di Un Tecola Palma Quando sono qui vuol dire che... Fa caldo, Antò! Vuol dire che la situazione sta degenerando Allora, di che libro parliamo oggi? Parliamo della risunzione del libro di I Love Cellulite di Martina Semenzato Edito Peruzzi Editoriale Guida Editori Per un prezzo di copertia di 13€ Allora, loro gentilmente ne hanno anche donato il notebook Però io... è così bello che ogni giorno se lo utilizzerò Perché ho paura che si rovina Vabbè, io sono alti livelli, va bene Allora, parliamo subito di questo libro Prima cosa ci terrei a fare una menzione speciale Per le grafiche sia interne che esterne E soprattutto per l'impaginazione Che in particolar modo il testo e il notebook Hanno la versione elastica Questo permette anche di poterlo tenere E gestirlo un po' come se fosse un piccolo diario Ecco, quindi non un vero e proprio libro Ma un diario di esperienze Quello che troverete all'interno È un insieme di informazioni Che aiuteranno, diciamo, noi donne A combattere la cellulite Ecco perché I Love Cellulite Mezzo neanche speciale per le due prefazioni Fatte da Dario Ballantini E di Alice di De Pollo... Pozzolis... Eh... Pozzolis... Semili E mi è piaciuto questo aspetto Cioè del fatto che c'è sia la prefazione di un uomo Che la prefazione di una donna Quindi questo specifica che questo libro Non ha nessun tipo di discriminazione Per l'uomo o per la donna Trovate l'articolo completo sul blog Quindi non vi preoccupate Sono solo delle considerazioni generali Più una sorpresa dopo Allora, sostanzialmente Tongo la molla così ho più facilità ad aprirlo Sostanzialmente Quello che viene raccontato un po' all'inizio È la storia di Martina Che combatte la nostra cara amica cellulite Come lei la definisce malefica Allora La cosa bella di questo libro È che è un insieme anche di citazioni Nel senso che Oltre a un racconto Oltre a delle informazioni anche molto tecniche Ci sono alcune frasi Tratte da personaggi famosi Di testate giornalistiche E anche da artisti O attori La cosa bella è che Tutto il filo conduttore È preso con molto spirito autoironico Le stesse illustrazioni Sono un chiaro riferimento All'ironia E allo spirito con il quale Viene creato questo libro E il suo concept La cosa che mi è piaciuta È che è un chiaro aiuto Per avere le idee un po' più chiare Su quello che è appunto la cellulite E che sostanzialmente Può servire sia a un uomo Che a una donna La cosa bella è che Comunque toglie diversi stereotipi Che purtroppo la società Ci inculca Involontariamente Involontariamente Per puro spirito di marketing Del fatto anche di L'utilizzo dei prodotti È tutto l'insieme Del mercato Appunto Dietro a Una problematica Che appunto Affrigge Chiunque La cosa bella è che Oltre ovviamente A citazioni Proprio anche storiche A spiegazioni Di che cos'è Effettivamente La cellulite La cosa che mi è piaciuta È che Di base C'è sempre Questo Chiaro messaggio Di Non soffermarsi Troppo sui difetti Anzi Quei difetti Possono essere dei pregi E soprattutto Valorizzarsi Anche se Una donna Possiede la cellulite Non vuol dire Che non può mettersi Una gonna Deve essere forte Dei propri difetti Come dice esternamente Il consiglio Migliore alla fine Sarà sempre La leggerezza Leggerezza Non di culo Non di cosce Ma di animo E spirito E io sono d'accordissimo Menzione vanno anche A alcune ricettine Che loro stessi Pubblicano Che trovate anche Sul loro profilo Perché ci sono Alcuni Riferimenti Ad alcune Ricette Cos'è estremamente Semplici Che può fare Chiunque Anzi Prima di dirvi Quello Ci tenevo Anche a specificare Oltre all'immagine Che ogni capitolo Si conclude Comunque Con una parte Di note personali Dove ci sono Delle domande O comunque Delle chiacchiere Da fare Tra amiche Sostanzialmente E È molto curato Posso dirvi Che È equilibrato Ci sono le parti Più Tecniche Le parti Più Ironiche Le parti Più Prendiamoci in giro Perché Siamo tra donne E Quello che il mercato Vuole da noi Quello che Ne stesse Vogliamo Per noi E Questo continuo Scherzare Su Malefica Mi ha fatto Molto sorridere E vi faccio vedere Appunto Questa Licensina Che C'è uno scherzo Proprio Ricette vere e proprie Che possono fare Chiunque Perché alla fine Sono prodotti Diciamo Di comune utilità Io In particolare Ho utilizzato Ho rimixato Una delle loro ricette Che io facevo Già precedentemente Scoperta un po' Qui un po' Lì sui social Ed è un chiaro Metodo Per smaltire Prodotti E Ve lo lascerò A fine di questa recensione E Vi invito A Ad ascoltare Questo libro Perché ha molto da dire Sembra molto scherzoso Molto giocherellone Però secondo me È un libro Che Può dare tanto Può dare tanto Alla donna Può dare tanto All'uomo Può dare tanto Anche Al proprio finanziato Al proprio marito Secondo me È un dono Da fare Per se stesse Oppure Tu Proprio tu Tu che sei il marito O sei il finanziato E non sai che cosa regalare La tua finanziata Questo non è un regalo perfetto Perché Ok Tralasciando il momento Oh amore Che vuol dire Che ho la cellulite Secondo me Dopo capirà Il regalo Che vi ha fatto Il vostro finanziato Barra marito Perché Se un uomo Riesce a Non far pesare Alla propria donna Questa tipologia Di problematica Secondo me Vuol dire Che mi ama Tanto E Anche Secondo me È bellissimo Come pensiero Io Almeno l'ho presa Con questa filosofia L'ho presa Proprio con questa idea Di Ridere un po' Su Appunto Sulla cellulite E Perché Premessa Anch'io ce l'ho Purtroppo E Quindi Vi lascio Questa breve recensione Farò Tipo La Carlita dolce Negli anni 2000 Sì Forse più o meno Quell'anno È nata Carlita Vabbè Sì Chi non conosce Carlita dolce Quello che vedete È appunto Una mini ricetta Mixata Tra quelle Che loro hanno Pubblicato E alcune mie Dritte personali E Spero che vi piace E dopo La mini ricetta Torniamo qui Devo dire Che è subito Carlita dolce Ma fa bene Allora Che cosa ci serve Io utilizzerò Questo barattolo Con il coperchio E Diciamo che È Mediamente Chiuso Cioè nel senso L'aria non passa Però Per il quantitativo Che farò Io Va più che bene Utilizzerò Delle cialde Utilizzate di caffè Di questi qua Che aprirò E prenderò Sono stati utilizzati E raffreddati Perché Non si butta nulla Soprattutto La nutella Si utilizza sempre Va bene Un cucchiaino Proprio basic Una componente Oleosa Io Siccome devo Utilizzare L'olio di semi di vino Principalmente Io lo utilizzo Per i capelli Però il problema Che l'ho lasciato Troppo Tempo Con temperature Calde E si sente Un mutamento Dell'odore E ho bisogno Di smaltirlo Siccome Più o meno È a tanto E non mi va Di buttare Un olio Perché è peccato Lo utilizzerò Per lo scrub È quello Dei provenzali Quindi Comunque È 100% naturale È buono Per i capelli È buono Però Ora Ci serve Altro Ok Ci serve Del caffè Dello zucchero Io ho quello Di canna Potete Utilizzare Anche Lo zucchero Fine E fino Oppure Il sale grosso E mi gioco Un jolly Che è un prodotto Della Collistar Super concentrato Anticellulite Snellente Quando si suol dire Spendere soldi Inutilmente Nel giro di Meno di un anno La componente alcolica Si è amplificata Quindi devo dedurre Che sta arrivando Comunque agli sgoccioli E per lo stesso motivo Lo utilizzerò Per smaltirlo Dovete sapere Che io Difficilmente Difficilmente Butto le cose Cioè Se le butto O perché sono scadute O perché le ho finite E quelle cose Che mi rimangono In sospesa Cerco di smaltirle Con altre Tecniche Tipo questa Ma cominciamo subito Prendiamo il caffè Ora lo apriamo Io lo metto Tutto all'interno Per non sporcare Altre cose Io preparerò Già La dose Che utilizzerò Oggi Nella doccia E Non preparo Mai tanto Prodotto Non perché Non si mantenga Perché la parte acquosa È molto poca Ma principalmente Per un fatto Che Siccome il caffè È stato utilizzato Cioè Non è caffè Originale Cioè nel senso È stato già utilizzato Tende Ad ammuffire Dopo un tot di tempo Quindi per prevenire ciò Cerco sempre di utilizzarli In modo da smaltirlo Il giorno stesso Ok Io qui Aggiungerò Aggiungerò Un cucchiaino Di olio Come vi dicevo Io utilizzo Quello di Semidilino Mi asciugo Perché Il tappo Non so perché Provoca Tanto olio Per il quantitativo Basta Un cucchiaio Io non vi do Diciamo Delle quantità precise Principalmente Perché io ormai Vado ad occhio E non essendo Una ricetta Standard Potete utilizzare Quello che volete È giusto Un modo creativo Per dirvi Come utilizzare E riciclare le cose Prendo un altro cucchiaio Allora Se avete Il sale fino Vi consiglio Di utilizzare Una percentuale Maggiore Di zucchero fine E poi Sale grosso Io utilizzo Poco zucchero Di canna Perché Provo per quel concetto Mischiamo bene Ovviamente Questa pappina Diventerà Leggermente Più compatta Provo perché C'è la presenza Dell'olio Intanto che Mischio Vi dico Come utilizzarlo Allora Quando si è sotto La doccia E per esempio Vi mettete Del balsamo E dovete Appunto Attendere Facendo delle cose Diciamo Delle piccole coccole Per voi stesse O voi stessi Perché questo Si può usare Sia uomo Che donna Nessuna discriminazione Su questo profilo E Dovete avere Appunto La pelle Completamente Impagnata E prendere E prendere Perché scrabbando Scrabbando continuamente Continuamente Di regola Se ne fa Una volta A settimana E col fatto Comunque Del mare Del cambio Appunto Della pelle È giusto Farlo Io eviterei In caso Comunque Utilizzavo Ovviamente Per la mia Grande pigrizia Non ho mai Visto I risultati Ma Qua non è colpa Del prodotto Ma è della mia Pigrizia Quindi io Ho imparato A convivere Con la cellulite Perché va bene così Ma proprio perché Non spiego Lo stesso libro Prendetela Con Filosofia Perché La cellulite Uno Non la combattete Perché l'avete sempre O più O meno E soprattutto Magre E persone Un po' più robuste Tutti hanno la cellulite Sfatiamo questo mito Quindi anche io Perché sono magra Non vuol dire Che non ho la cellulite Però Siccome sinceramente Spendere Cifre Esorbitanti Per Prodotti Mi sono anche Un po' Cittanghella Però l'ho capito Troppo tardi Dopo che ho letto il libro Ok Non so se lo vedete Penso che si vede È molto più Pappetta Un po' più Questa io La utilizzerò Quando farò la doccia Ok Perfetto Si vede È un bel aspetto Ma non ci va bene Così Quindi Abbiamo concluso Io questo Lo utilizzerò Dopo E ci vediamo dopo Con Questo scrub Fatto in casa Conclusione Io consiglio questo libro Se non si era capito È in si grande Quanto una casa Ve lo consiglio Proprio come regalo Per voi stesse O Dei compagni Perché Ha tutto Ha tutto Ha la chiave Per il successo E vi invito anche A iscrivervi al canale Instagram Di questa Diciamo Iniziativa Perché Oltre ai video Oltre alle ricette Traspare molto Quello che È il potere delle donne Cioè Quello di Rendere i propri difetti Dei pregi E Traspare tantissimo E ok Si è creato Il personaggio Dietro appunto A questo profilo Ma Ha un messaggio Che se vi sono affermate Riuscite a leggere Chiaramente Quindi Ringrazio Martina Per questa opportunità Botto Di fine anno La porta si è chiusa Per il vento E Vi invito tutte Donne E uomini A comprarlo Perché Se non è Vale tanto E il mio consiglio Del Periodo estivo Visto che siamo L'estate Inoltrata Io sto registrando Oggi è 2 luglio Quasi dovrebbe uscire Domani questo video Ci riuscirò Boh Non lo so E soprattutto Instagram Mi bannerà Per la fotografia Che ho in mente Yeeeh Non lo so Ma fa bene Voi spronate E condividete Aiutate Aiutate E niente ragazzi Il mio video Finisce qui Spero che avete Preciuto questo mix Di informazioni E che apprezzate Questa iniziativa Un bacio Della vostra palma Chiuderò in maniera diversa Con la citazione del libro Ai loro cellulite Di come affezionarsi Alla propria cellulite E vivere contente Baci Della vostra palma Alla propria cellulite